Antonio Crispino, mercoledì è in programma una manifestazione per la pace a Torre del Greco, l'iniziativa che parte dalla CGL che coinvolgerà scuole, associazioni e anche rappresentanti del Clero. Sì, mercoledì alle 9.30 a piazza Luigi Palomba saremo in piazza e da lì partirà il corteo per via Salvatornoto, via Episcopia via Salvatornoto e ci fermeremo a piazza Santa Croce e ovviamente sì, questo è per mettere in campo una manifestazione che dia, anche se morale, tutto il supporto al popolo ucranio perché Torre del Greco ha un gran cuore, ha un associazionismo molto forte e si è dimostrato durante il periodo di lockdown, proprio nel periodo buio, una fitta rete di associazioni è scesa in campo mettendo il cuore oltre l'ostacolo e quindi consci del cuore grande che è a Torre del Greco vogliamo dare questo segnale di speranza e di pace attraverso le strade del centro e ci auspichiamo che la partecipazione sia più larga possibile visto che è un tema che tocca a tutti, che non ha colori e quindi speriamo realmente ci saranno ovviamente sì sindacati, c'è il movimento dei marittimi, scuole, clero, associazionismo del terzo settore, culturale, per dare appunto da Torre del Greco quel segnale di speranza e di pace. Una manifestazione simbolica ma tanta solidarietà sta partendo da Torre del Greco. Sì solidarietà ovviamente non solo in piazza ma anche concreta dove appunto quel terzo settore che nei periodi appunto del lockdown hanno fatto da ammortizzatore sociale, da welfare in questo momento si sta attivando per mandare aiuti concreti al popolo ucraino anche ospitando bambini quindi ovviamente fare solo manifestazioni e scendere in piazza ha un senso ma bisogna anche sporcarsi le mani e aiutare vivamente chi da un giorno all'altro ha visto stravolgere la propria vita ho visto delle testimonianze. La mattina andavano a scuola bambini, il giorno dopo erano rifugiati e sono stati costretti a scappare e immagino quanti di noi possono immaginare che un nostro bambino ha vivere uno strazio del genere e quindi dobbiamo tutti essere uniti e scendere in campo. Grazie